Il Museo archeologico nazionale di Volcei e Marcello Gigante di Buccino chiude per mancata manutenzione dell'amministrazione comunale. Lo si evince da un comunicato pubblicato sui social dalla Proloco di Buccino, dal quale si apprende che il sindaco Pasquale Freda avrebbe inviato una nota ai dirigenti comunali vietando di rilasciare qualsiasi autorizzazione alla Proloco, non concedendo di fatto gli spazi pubblici necessari alla realizzazione delle storiche iniziative che l'associazione organizza da decenni. La tredicesima edizione del Volcei Wine Jazz e la quarantaquattresima edizione delle historie volceiane, quest'ultima prevista dal 16 al 18 agosto. Il museo, ospitato nell'ex convento quattrocentesco degli eremitani, espone i reperti rinvenuti nell'area di Buccino, tra i quali il corredo funerario femminile della tomba degli ori, una tomba a camera del IV secolo a.C. e il mosaico della sala del banchetto di cui è stato ricostruito l'ambiente con le pareti decorate in stucco policromo. Dopo un importante periodo di crisi dovuto alla pandemia da Covid, la quale ha devastato sotto tutti i punti di vista il mondo intero, tra l'altro mettendo a dura prova il mondo del volontariato, che si è visto cancellare oltre l'80% delle attività con pesanti ricadute negative nell'ambito sociale, culturale, turistico e economico, si è repotizzato come anno dell'effettiva ripresa, il 2023. L'attuale trend concretamente non smentisce tale previsione se non per il piccolo borgo del Salernitano, Buccino, un pittoresco borgo con poco meno di 5.000 abitanti, ma una storia pregna di tantissime specificità, dove trovano particolarmente rilievo l'aspetto culturale, archeologico, gastronomico e naturalistico, nel quale da svariati decenni opera la locale proloquo al fine di sensibilizzare i residenti e non alla conoscenza e tutela dello stesso, in abbinamento con un piano di rilancio turistico messo in campo ad hoc dall'associazione, la quale favorisce la realizzazione di svariati eventi e attività, ma dove purtroppo il sindaco Freda si è personalmente opposto all'avarealizzazione delle stesse. Esprimiamo la nostra costernazione a tutti coloro che con entusiasmo attendevano le iniziative d'estate amate e storiche al Museo archeologico nazionale di Volcei, scrivono dalla proloquo di Buccino. Ai nostri concittadini, a quanti ci hanno onorato della loro presenza e collaborazione ultradecennale, confermiamo il nostro continuo impegno nel promuovere la cultura, l'arte, la socialità e la legalità nel nostro borgo. Nonostante gli ostacoli incontrati, scrivono, noi la valigia non la facciamo, continueremo a creare opportunità per i giovani e per chi ha scelto di restare nel nostro territorio. Tuttavia i vertici della proloquo comunicano di aver impugnato tale decisione presso il TAR, il quale ne ha fissato la Camera di Udienza per il prossimo 12 settembre, a differenza di quanto affermato dal sindaco Freda in una nota giunta alla cittadinanza da Palazzo di Città. Si consuma così una nuova ingiustizia per il mondo delle proloquo e per la comunità buccinese, la quale si vede privare di una tradizione ultradecennale, con ingenti danni al tessuto economico, produttivo e turistico del piccolo paese salernitano.